l'ho fatta ricotta e amaretti torta ricotta e amaretti? che ti faccio che sguagli qua del cavato? mmm si sguagli in bocca il favorito è il cavo congelato zia teresa buongiorno ciao come va? benissimo sta giornata troppo benissimo perché benissimo? perché mi sento che sto facendo un dolce che mi piace un dolce che mi piace? fate il biscotto? l'amaretti no l'ho comprato fatta buona la verità è la verità e ora devo fare un bel dolce con ricotta e amaretti fate la torta ricotta e amaretti benissimo ti ricordi questi biscotti? si gli amaretti questi hanno un sacco di anni esistono da una vita no una vita sai ma se vuoi fare una torta ricotta e amaretti? bellissimo ma veloce come ricotta che ho poco tempo me lo devo andare perché è veloce da fare ci vuole niente? vai proseguiamo ok due uova due uova andiamo a cercare le mani ci vuole pure un poco di zucchero poco zucchero? pochissimo 90 grammi 90 grammi di zucchero ok guarda e andiamo nelle uova e andiamo a sbattere è stata la frutta stammarini è stata la frutta stammarini più allergica guarda più allergica? eh sì sì no allergica più allergica guarda stenga mi ha diventato la rete bucca mi ha messo le ali è stato solo da scherzati sì 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 è una simbaticona di te eh 270 grammi di ricotta 270 grammi di ricotta eccola qua andiamo a mescolare per bene ti ha sbattuto anche la ricotta adesso? 150 grammi di farina 150 grammi di farina eh sì guarda l'andiamo a setacciare eh sì ok andiamo a aggiungere l'ultima farina l'ultima ecco qua andiamo a mettere una bustina andiamo a aggiungere il lievito una bustina di lievito per dolci sì va dura ecco qua andiamo a mescolare per bene piano piano quindi oggi voglia di dolci siete vedi? ok il finale guarda qua il finale? guarda qua ah prendiamo gli amaretti e li ci piccioliamo eh sì con le mani ecco qua ecco qua ecco qua quindi vanno così i biscotti sopra si sbriciano che belli che belli ecco qua adesso mescoliamo ecco qua vedi? mescoliamo tutto ha un bel aspetto no no ha bel addore pure sì sì lo dovrebbe buonissimo ecco qua adesso abbiamo preparato la forma per dolci con la carta da forno e andiamo a mettere tutto dentro guarda il nostro composto nella teglia per dolci ecco qua l'andiamo a distribuire per bene nella nostra teglia per dolci il fondo ce l'ha acceso e siate resa? ci hanno fatto riscaldare andiamo al forno per quanto tempo? 180 per 30 minuti perfetto a dopo a dopo siete resa torta pronta? prontissima torta ricotta e amaretti ecco qua 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 andiamo al taglio sì vediamo vediamo una fettina per il vostro assaggio mhm fatela vedere dentro ecco qua ecco qua ecco qua torta ricotta e amaretti ecco qua dzięki educa ecco qua emi ecco qua ecco qua Grazie.